bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale io sono kino e oggi vi voglio portare un nuovo video contest allora perché vi porto un video contest perché ieri siete stati veramente tantissimi a commentarmi e vi ringrazio innanzitutto tutti quanti visto che la maggior parte dei commenti erano via che gente che mi faceva mi chiedeva di vedere le mie armi di vedere i progetti ho pensato bene di portare un video contest non sarà il primo raga non sarà di certo l'ultimo anzi insieme a re claus stiamo organizzando live stiamo organizzando video facciamo tantissime cose insieme raga per cercare di portarvi quanti più contenuti possibili e quante più cose da provare possibili in modo che potete esplorare il gioco in tutte le sue forme cosa succederà raga allora se questo video riuscirà arrivare a 50 like innanzitutto estrarò tre vincitori nel momento in cui ne raggiungerà 100 ne sceglierò 5 attenzione sceglierete voi un mio progetto ma nel senso che potrete scegliere quello che volete 130 106 raga non farò alcuna distinzione anzi cosa farò addirittura andrò a potenziare insieme a voi che ne so potenziamo questa ma se facciamola 130 non vedo perché non farlo ok poi mi vorrei fermare così vorrei portare su qualcos'altro facciamo che lo decidete voi nei commenti la prossima arma da portarmi su anzi per ora mi porto su questa però nei commenti voglio anche che mi consigliate quali armi alzarmi vediamo questo per forza in scaglia buia se avete visto il video precedente ovviamente ovviamente raga eccoci qua raga prima cosa vado subito a trattarmi due di queste armi quindi abbiamo portato al 130 lo spettro silenziato di fuoco nel pompa del pvp che andremo subito a provare ricordo raga importantissimo che per partecipare al contest dovete dovrete essere iscritti al canale obbligatoriamente se non non verete estratti e commentare nel video a 50 like verranno estratti tre vincitori se invece ne raggiungiamo 100 ne strago 5 e fin qui tutto chiaro per aggiungermi agli amici per aggiungermi agli amici raga dovete aggiungermi tutti quanti agli amici di epi che non a quelli che ha quello che sn il mio nickname e piccolo aggiungerò in sovraimpressione nel video comunque kino col trattino normale tv kino sempre scritto con la k come nome del mio canale identico a differenza del trattino e mezzo senza spazi quindi raga è tutto chiaro andiamo a vedere queste due armi vediamo un attimo come si comportano allora inizierei dallo spettro mi scioglie raga siamo in una missione in essilvania e fa di tutto mi scioglie raga e vediamo il pompa scusate se in questa clip ho rimosso l'audio del gioco ma notavo che la mia voce risultava veramente bassa comunque penso proprio che questa pompa me lo porterò su con potenziamenti quindi con le perk perché notavo che mi piaceva veramente tanto ripeto una ricarica veramente veloce e spara ripetizione in più colpisce nemici ad ampio raggio quindi ne colpisce anche due o tre alla volta quindi raga per il video di oggi è tutto lasciate quanti più like possibili vi spoilerò già che domani uscirà un video fighissimo raga quindi restate sintonizzati iscrivetevi al canale se non lo siete e vi mando un bel saluto bella raga